Vivere e pregare in Afghanistan Almeno tre razzi esplosi a distanza ravvicinata dal palazzo presidenziale a Kabul e la folla riunita per salutare l'inizio della festa musulmana del sacrificio sussulta appena. In prima fila tra loro anche il presidente Ashraf Ghani che nonostante l'assenza di rivendicazioni ha poi parlato di ennesima prova che i talebani non cercano e non vogliono la pace. Stando alle prime informazioni l'attacco non avrebbe provocato vittime.